I casi di autismo in Puglia e a Taranto crescono, eppure il disturbo dello spettro autistico è ancora sottostimato e difficilmente diagnosticabile. Spesso si creano situazioni di disagio per pazienti e familiari. L'assessore alla sanità Roccopalese già un anno fa confermò il dato, sostenendo che gli veniva segnalato da studiosi epidemiologici milanesi che la Puglia è tra le regioni dove i casi sono aumentati più che altrove. Perché in questi anni mi sono occupato di questa problematica? Una problematica che si parla molto poco, direttore. Le ristrattise sono lunghissime, ma c'è poi il dopo, perché questi bambini diventano ragazzi e c'è un problema anche a inserirli nel mondo del lavoro. Renato Perrini ricorda a tal proposito quanto detto nel messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sull'associazione Pizz Out che fa lavorare ragazzi affetti da autismo a Nuova Milanese. D'altronde in Puglia del rapporto tra autismo e mondo del lavoro non si parla granché. Ho fatto questa richiesta di audizione per fare in modo che la regione inizi a lavorare su questi progetti e fare in modo che non si lasciano da solo le famiglie. Presentata dunque una richiesta di audizione all'assessore alla formazione e lavoro Sebastiano Leo al fine di comprendere quali iniziative si intendano portare avanti per garantire un futuro occupazionale ai giovani con autismo. spesso con la conclusione del ciclo scolastico, ricorda ancora Perrini, i ragazzi autistici hanno difficoltà a trovare una giusta collocazione in ambito lavorativo.